Ciao ragazzi, sono Kappa Bigoku e oggi sono qui con voi su Dragon Ball Siamo su Dragon Ball e oggi ho però una brutta notizia da darvi per gli amanti di Dragon Ball, cioè anche me stesso però vabbè, la brutta notizia è che dato che questo gioco ho fatto 100 milioni di partite devo prendere Goku Super Saiyan 3 100 milioni di partite e tra l'altro come ormai ultimamente mi annoia veramente giocare cioè non tanto giocarci a questo gioco in sé quanto fare le partite online perché becco solo gente veramente noiosa e quindi insomma come sapete tutte le partite più o meno poi sono uguali proprio per il sistema di gioco di questo gioco dato che ho fatto quasi 100 video ho intenzione di farne un po' meno di video di questo gioco quindi non credo di farle a turno non beccherete sempre a turno il video di Dragon Ball perché come ho detto mi sono un po' stancato e quindi vabbè nulla nel senso ci gioco però ecco facciamo una partita Dragon Ball dopo magari sì però non farò come ho detto ogni volta il video di Dragon Ball perché non ci riesco cioè riuscire volendo ci riesco però se devo fare un video per annoiarmi non lo faccio ecco sapete che io i video li faccio sempre tutti molto volentieri li ho sempre fatti però se proprio il gioco mi annoia no no ho fatto la cagata subito eh vabbè a me ho fatto subito la cagata iniziale dovevo premere ahhh gioco troppo ai giochi della play 2 perché poi mi viene da premere tondo più volte per parare le ondine invece qui bisogna tenere premuto ogni volta ogni gioco è a sé quindi vabbè ah mi ha beccato scusa era un chilometro di distanza questa cosa non l'ho capita di grazia come cavolo ha fatto a beccarmi infatti io ho detto no mi carico cioè sarà stato a 18 metri non ha senso questa cosa vabbè fa niente cannone galic e devo fargli almeno una mossa non è che posso farmi fare il perfect in faccia quindi adesso un triangolino te lo becchi a casaccio ma un triangolo te lo becchi perché perfect non lo voglio subire invece lo subisco triangolo eh lui fa quadrato eh vabbè però la volta che poi cambia poi mi fa subito la mossa quindi piuttosto stiamo così dai vediamo se riusciamo a fargli almeno un attacco adesso lui andrà al massimo ci vado anch'io stavo parando questa cosa non ha alcun senso stavo parando ma guarda che veramente è ridicola eh stavo parando ero sul tondo netto questo è il lag totale che c'è in questo gioco eh vabbè dai ah bene viva il perfect godo va vabbè senti proviamo a respingerlo tanto che cazzo me ne frega se va va se non va non va dai se funziona bene se non funziona si tra l'altro ho un primo triangolo da secoli eh infatti amen godo tanto non mi ha fatto il perfect va benissimo amen amen fa niente eh si sono un po' un po' un po' così e mi ha un po' un po' stufato questo gioco è troppo cioè non lo so è troppo boh senza senso cioè non senza senso il gioco in sé il metodo di combattimento cioè ho quadrato triangolo cioè alla lunga mi ha veramente stufato cioè non non ne posso più a un certo punto non ne posso più con questo non vuol dire che il gioco sia brutto però giocare online così è boh cioè non saprei neanche come definirvelo perché è strano non è che c'è un paragone è assolutamente casuale non è che vinci se sei forte cioè si vabbè vinci anche se sei forte ok però a parità di giocatore o più o meno parità di giocatore vince chi ha più culo o chi fa il 50 e 50 al momento giusto cioè non non è non è il massimo ecco puoi avere aumentare un po' la tua bravura con un determinato personaggio conoscere le cose che ti fregano tipo le onde di Veget o fare due volte l'inseguimento con Gohan che ti fa arrivare dietro però a parte quello il resto è assolutamente un po' a culo quindi non è che sia al massimo ma vabbè va bene mi fai trovare un altro personaggio che devo usare Freezer la terza trasformazione di Freezer devo usare vabbè no dai senti facciamo una partita contro contro Bevastator vai ma si dai facciamoci sta partita contro di lui ma si ma si ma si vai dai vediamo chi prende lui io devo prendere Freezer alla terza non è che lui non prenda il suo personaggio che ha fatto ok io volevo prendere Freezer vediamo tu chi prendi allora prendi l'eroe allora prendiamo l'eroe ma non Gohan ma non Gohan no non Gohan non Gohan no dai ma che palle ma vai veramente a morire sotto i ponti ma perché dovrei prendere ma perché dovrei prendere Gohan ma non volevo Gohan ma mi fa schifo Gohan ci mancava pure questa no va vabbè fai niente amen ma guardateo ma schifoso il serperatto che ti ha inventato mannaggia i fiori maledetti trichecati morti andiamo a vedere sto schifo di Gohan mi fa schifo mi fa schifo non volevo Gohan bambino fa cagare i morti oh bravo che schifo da dietro non so perché da dietro ma va bene ah perché stava girando e quindi l'onda l'ha beccata da dietro vabbè che boiata carichiamoci andiamo andiamo così a spaccare il mondo di onde energetiche magari mi piacerebbe vado via uno due oh l'hai parata cazzo cazzo no ecco lo sapevo io che faceva quadrato ma sarai schifosamente lercio no avevo fatto la mossa da lontano speriamo che la rifiunga c'è che non la rifiunga oh che culo io sono a destra ho cominciato di essere a sinistra andiamo andiamo ah ho finito già l'energia molto male molto male l'ha anche respinta bravo triangolo dai kodo kodo una volta su 100 funziona e ha funzionato sbamma andiamo 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 oh che schifo fai don c'hai pochissimo attacco c'è ma proprio poco 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 gekiretsu madame vai vai gekiretsu ti toglierà 5000 sta mossa andiamo ma no beh 6500 dai 6500 oh 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 no io non sono andato offline sono qui ma mannaggia i fiori la connessione a internet va cosa vuoi zio niente cioè è saltata va bene partita interrotta io sono ancora qui posso fare tutto il PSN funziona non è andato offline ma lui ha deciso che io sono disconnesso vabbè ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un commento un mi piace fatemi sapere cosa ne pensate so che la decisione è un po' drastica però d'altronde ragazzi se non ho tutta sta grande voglia di fare i video risulterebbero solo noiosi e immagino che la cosa non vi possa piacere quindi nulla insomma fatemi sapere e ci vedremo con i prossimi video bella